E' ufficiale, il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, appoggerà Carlo Noto alle comunali di Anani, ma vediamo il servizio. Buongiorno a tutti, con questo intervento desidero comunicare il mio appoggio al candidato sindaco noto, quale esponente del centro-destra Anagnino, contrario alle mie ideologie politiche, ma sicuramente uomo al quale va espressa tutta la mia solidarietà, quale sindaco di Napoli, in quanto ci accusano praticamente delle stesse malefatte. Chiaramente non sono d'accordo con tutti coloro che si nascondono dietro una bandiera per infamare l'esimio sindaco, dottore Cavaliere del Lavoro, Carlo Noto, in quanto brutalmente accusato di favoreggiare parenti stretti. Sono sicura che lo stesso sindaco non era minimamente a conoscenza dei fatti, proprio come mi è successo a me medesima. e mi ci siamo sentiti dare del rincoglionito e allora sindaco noto l'ha esorto a tenerci rincoglionito come aggettivo qualificativo in nome della più stretta moralità politica che ci ha contraddistinto durante tutta la carriera politica. Con questo appello pertanto chiudo e invito tutto il popolo magnino a non farsi abbagliare da bidoni, bidoni.